Musica Furono ordinati i sacerdoti 50 anni fa da San Paolo VI, nel giorno di Pentecoste del 17 maggio 1970, in cui ricorreva anche il giubileo sacerdotale del Papa. Parliamo di Don Pasquale Muschitello e Don Antonio Bonerba, che hanno festeggiato il loro sì a Gesù con una celebrazione eucaristica all'interno della Cattedrale di San Sabino a Bari, presieduta da Monsignor Francesco Cacucci e collegati via streaming con parenti e amici a causa delle restrizioni per l'emergenza sanitaria da coronavirus. I due sacerdoti, l'uno bitontino e parroco della Chiesa di San Ferdinando a Bari, l'altro barese e parroco della Chiesa Amatrice di Trigiano, furono scelti dai loro vescovi uno per la diocesi di Bitonto Ruvo, l'altro per quella di Bari. Con l'annessione della diocesi di Bitonto a quella di Bari, si è avuta la particolarità di festeggiare questi due sacerdoti, che erano tra i 278 diaconi provenienti da tutto il mondo quel 17 maggio di 50 anni fa a Roma. Sì, devo dire che questi due sacerdoti io li porto particolarmente nel cuore. Per questi due aspetti, un aspetto di disponibilità, di dolcezza e soprattutto di umiltà. Perché il Signore fa opere grandi, ho detto, lo spio santo è un grande artista, e lo fa con persone che guardano non a se stessi ma al Signore. E posso testimoniare che questi due sacerdoti questa testimonianza l'hanno resa costante nella loro vita. Rappresentate Cristo, diventate strumenti, ministri a servizio della Chiesa e della umanità, disse Papa Paolo VI durante la sua omelia. E i due sacerdoti ne hanno fatto davvero missione nel loro tempo, a servizio delle comunità di Bitonto e Bari. E l'entusiasmo di cominciare un'attività che mi apriva gli orizzonti, come dice Papa Francesco, adesso una chiesa all'aperto. Per cui sono stati anni in cui ho vissuto tante esperienze, sia nel santuario dei Santi Medici, come in cattedrale, e poi anche qui a Bari, nel centro di Bari. Per cui ogni avvenimento, ogni giorno è stato sempre qualcosa di bello e di entusiasmante. Anche se nel contesto molte volte di difficoltà. Ma la vita è per tutti un impegno e soprattutto una fiducia. Grazie, è un giubileo che non mi aspettavo con tutte le circostanze che ci sono state. E che questa epidemia possa essere anche occasione non soltanto di riflessione, ma di maggiore impegno a servire il Signore e i fratelli.